Mondial Group la protesta non si ferma, la solidarietà continua ad arrivare ai 71 lavoratori, da amministratori e rappresentanti della società civile, ma senza soluzioni di sorta. Lo stesso prefetto di Avellino, Carlo Sessa, ha raggiunto telefonicamente l'amministratore del gruppo, Monico, che avrebbe dato chiare indicazioni sulle strategie del gruppo. La proprietà non intende fare marcia indietro, spiega Monico, l'azienda erpina è improduttiva e verrà chiusa. Ma i lavoratori non si danno per vinti e scrivono a Papa Francesco per invocare aiuto e sostegno a risolvere un'avvertenza che rischia di travolgere altre famiglie, destini, un'intera comunità. Il primo cittadino di Montemiletto, Angelo Frongillo, si schiera al fianco degli operai ed è pronto a richiamare l'attenzione di altri sindaci e referenti istituzionali perché la Mondial non chiuda. Continuiamo a non riuscire a dialogare con Monico, spiega Frongillo, l'amministratore non vuole dialogare. Intanto sono saltati i tavoli istituzionali a cui l'amministratore unico del gruppo ha scelto di non prendere parte. Neanche presa in considerazione la possibilità di attivare la cassa integrazione straordinaria che avrebbe concesso altri 12 mesi di vita all'azienda. La scadenza del 3 novembre intanto si avvicina a quella la data entro la quale i lavoratori smetteranno, dovranno smettere di lavorare. Non possiamo essere fatti fuori dal ciclo produttivo così dall'oggi al domani. Monico parla della nostra azienda come di un ramo secco e lamenta come la regione non abbia concesso aiuti e sviluppo. Intanto continua il presidio permanente davanti i cancelli dell'azienda. Volti e sguardi si incrociano nella disperazione collettiva di un destino a rischio, di un lavoro che rischia di scomparire nell'autunno caldo di una nuova drammatica vertenza erpina. Intanto i dipendenti sono pronti a tutto, annunciata anche una marcia su Roma, magari insieme ai sindaci e agli amministratori per scongiurare un nuovo dramma occupazionale. Grazie.